Sul marciapiede di via Marconi ad Ancona, pochi metri dalla stazione ferroviaria, ci sono ancora le gocce di sangue e l'impronta di una mano ferita che cerca di aggrapparsi al pilastro di una ringhiera. I segni di una notte violenta nel quartiere Piano San Lazzaro di Ancona che poteva costare la vita a un giovane tunisino di 22 anni aggredito da un connazionale di 28 con una bottiglia rotta. Bessem Cacem è stato identificato nella notte dalla polizia di Ancona. Avrebbe colpito con i vetri al polso e al braccio l'altro tunisino che, stando a quanto riferisce lo stesso Cacem, gli doveva del denaro. Sembra che il 22enne si prostituisse. I due infatti sarebbero stati legati da rapporti sessuali a pagamento. A quanto pare però era il 22enne, quello che si prostituiva, a dovere del denaro all'altro. Da qui sarebbe scaturita una rissa furiosa verso le 11.30 a cui hanno assistito altri ragazzi stranieri del posto. Il ragazzo ferito è stato soccorso e trasferito in ambulanza all'ospedale di Torrette. Ha perso molto sangue ma se la caverà. Cacem invece è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate.